Un giudizio molto favorevole per noi la prima volta, la prima partecipazione, ma ritengo che comunque sia il contesto ideale per un incontro con una parte importante degli investitori in quest'area e che sono tradizionalmente molto sensibili alle opportunità di investimento italiane. Assolutamente sì, lavoriamo in un comparto che è quello del digitale, in particolare siamo un venture incubator, quindi un'azienda di venture capital che lavora accelerando l'impresa nella prima fase del loro sviluppo, quindi lavoriamo sulle start-up. È un momento straordinario per l'Italia, l'Italia sta conoscendo una crescita a due cifre nel comparto digitale anche perché partiamo indietro rispetto agli altri paesi, si creano quindi decine di migliaia di nuove imprese che lavorano su questa filiera e che vanno a occupare gli spazi applicativi nella crescita del mercato digitale italiano. Costruire imprese da zero consente quindi agli investitori di poter approfittare di opportunità di leva molto importanti, quindi fra alcuni anni i campioni digitali italiani saranno le imprese che adesso stanno nascendo o comunque che stanno sviluppandosi che sono l'origine. Noi come hub, come incubatore lavoriamo con decine e decine di imprese, ne abbiamo costruite 50 fino adesso, molte di queste diventeranno delle stelle nel nostro coso. Quindi è un modo per entrare in un asset class nuova, quella del digitale e dello start-up digitali e entrando in Digital Magics lo si fa in maniera sicura, quindi garantendo comunque le migliori possibilità di successo alle imprese per poterle far crescere e poi poterle vendere sul mercato o quotarle o comunque favorirne lo sviluppo. Quindi ritengo che sia un'opportunità importante, molto seria. Il nostro mercato del venture capital è circa un decimo rispetto al PIL italiano, rispetto agli altri paesi europei, quindi siamo agli esordi, siamo all'inizio e quindi un asset class che nascerà, crescerà e diventerà molto importante come tutti gli altri paesi del mondo. Nel 2014 abbiamo continuato a investire nella costruzione di nuove aziende, di nuove start-up, arriveremo alla fine dell'anno con un portafoglio di circa 45 società attive, ci sono molte relazioni con acquirenti, con buyer che comprano queste imprese, le nostre aspettative sono di conservare quello che è la nostra performance tradizionale del circa 30% di ieri rare rispetto agli investimenti fatti nelle aziende e quelle vendute e quindi sul capitale. Nel 2014 in particolare abbiamo lanciato un piano molto importante sul paese per andare ad aprire nuove sedi ed espandersi ulteriormente rispetto ai lab tradizionali di Milano da cui eravamo partiti. Quindi abbiamo fatto molti investimenti anche in altre zone, a Roma, al sud, stiamo pensando anche di, stiamo ipotizzando l'idea di fare anche delle sedi a livello internazionale, quindi di uscire anche all'estero, non soltanto in Italia, ad esempio qui a Lugano.